eccoci qua nel bonaccione più totale una giornata per acchiappare poi il vento dall'altra parte e puntare finalmente verso le azzorre ma non chassi ma non chassi c'era abbastanza vento, bollina, la barca sbatteva molto sembrava che si aprisse in due ogni volta azzorre 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 un'altra giornatina estiva nel golfo di Biscaglia come vedete non si sa mai che riusciamo a recuperare qualche altra posizione è tutto a posto a bordo di guidi ma sempre sotto spi quindi benissimo tutto bene siamo contenti cantiere di riparazione la palettina che c'è la direzione del vento ultima notte prima di arrivare alle sable finalmente stiamo andando belli veloci abbiamo recuperato un po' di barche sono un sacco di delfini qui attorno quindi quindi bene insomma dai siamo contenti da guidi è tutto ciao 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 Grazie a tutti.